Questo è un argomento un po' controverso perché fare i complimenti per la perita di peso è la norma, ma in realtà dimostra quanto noi, come società, glorifichiamo la forma fisica. Ecco tre motivi per cui fare i complimenti per la perita di peso non è la prima cosa che faccio quando incontro una persona. Numero uno, la perita di peso potrebbe essere dovuta a dei gravi problemi di salute, depressione, la morte di un familiare. Numero due, credo che far passare l'idea che un corpo più magro rispetto a prima sia più bello è dannoso, può far sentire le persone terrorizzate all'idea di riprendere il peso. Se poi riprendono il peso c'è un senso di vergogna, un senso di colpa, anche se in realtà sono più sane di prima. Numero tre, il peso sulla bilancia è meno importante rispetto alla composizione corporea e alla salute della persona. Nel mio coaching infatti mi trovo spesso a combattere contro la paura della bilancia e a far capire alle persone quanto sia più importante raggiungere un equilibrio per una salute fisica e mentale. Nel mio coaching infatti.